Una risoluzione consensuale del contratto. Il calcio Como e Rubinio si sono ufficialmente salutati oggi. Il portiere brasiliano andrà al Genoa, società alla quale è molto legato. Il giallo della partenza del 34enne, arrivato a Como solamente pochi giorni fa, è stato spiegato oggi da Diego Foresti, direttore generale. Quattro giorni che pensavamo a quest'operazione e alla fine abbiamo deciso di fare la decisione anche perché il Rubinio che abbiamo voluto un mese fa non era più il Rubinio di oggi. Con l'offerta che ha ricevuto da Genoa, chiaramente ha voluto a tutti i costi essere liberato e tenere un giocatore contro voglia. Io penso che la maglia del Como meriti qualcuno che la voglia indossare a tutti i costi. Dall'operazione il Como ha avuto anche un tornaconto economico. Comunque il calcio Como ne ha guadagnato in questa operazione. Lui ha rinunciato a tutti gli monumenti del primo giorno che è venuto a Como, gli stipendi e retrati, ha pagato una penale. Tra Rubinio e i dirigenti azzurri non sono volati gli stracci, anzi Foresti dice di capire la scelta del portiere brasiliano che a 34 anni si è visto passare davanti l'ultimo treno per la Serie A. Sono contento anche per lui, tra l'altro, perché è un ragazzo eccezionale e mi ci sono messo nei suoi panni. Rinunciare a 34 anni è un'occasione importante, di nuovo la Serie A, di nuovo tra l'altro in una società dove lui ci è stato benissimo e i tifosi lo amano. Per rimanere 6 mesi a Como e con un'enorme differenza di stipendio non avrei mai recuperato il ragazzo a livello mentale. Grazie a tutti.